Salve, ben ritrovati. Guardate, non aveste un buon motivo per mettervi davanti alla televisione in una giornata in cui siete così un po' cupi? Adesso il buon motivo ce l'avete perché torna SOS Casa con tutte le informazioni utili e importanti sulla vita in condominio. È il nostro appuntamento fisso del martedì, siamo in diretta qui sempre nei nostri studi di Padova in compagnia della Naci con cui continuiamo questa molto interessante e sempre attuale avventura in un mondo veramente dalle mille sfaccettature. Oggi è con noi Alfredo Gambato che è il vicepresidente appunto della sezione provinciale di Padova della Naci. Salve e bentornato. Quindi a vostra disposizione il nostro numero di telefono che è lo 049 635 964, potete telefonarci, Alfredo Gambato vi darà la risposta immediatamente su qualunque quesito vogliate porre. Se volete, naturalmente, se preferite potete scriverci ormai grazie ai super smartphone e ai tablet, tutti quanti riescono a mandare le mail in qualsiasi momento. Questa è una cosa molto bella della tecnologia. Quindi potete anche scriverci a soscasachiocciolaadachannel.it. Noi siamo qui. Noi siamo qui e in attesa delle vostre telefonate, delle vostre mail abbiamo anche sempre argomenti importanti e appunto di attualità da affrontare con i nostri ospiti della Naci. Oggi affrontiamo alcune tematiche relative diciamo al capitolo locazione e quindi agli appartamenti in affitto. Ci sono alcune cose che sono anche nuove da raccontare, scadenze eccetera. Io direi prima di tutto di partire da novità importanti da un punto di vista istituzionale. Attenzione per esempio quando si affitta un appartamento alla dichiarazione in questura. Come funziona adesso? Allora, da giugno di quest'anno non c'è più l'obbligo di fare la dichiarazione di cessione fabbricato, cosiddetta, che è partita dal 78. In quanto tutti i cittadini della comunità europea diventa non più obbligatorio in quanto si spera e si ritiene come è previsto la legge che i contratti vengano registrati. Però non tutti si sono ricordati di precisare come hanno fatto con grande pubblicità questa comunicazione che tutti i cittadini estracomunitari invece devono essere assolutamente spedita alla questura entro 48 ore. Una comunicazione allegando un documento, tutti i dati ovviamente, un documento. Nello stesso tempo si deve anche allegare il permesso di soggiorno valido o la richiesta di permesso di soggiorno presentata. Si deve poi allegare anche una certificazione che la persona che fa questa comunicazione ha titolo di affittare questo o di cedere questo immobile alla persona. Quindi dare dei dati ben precisi. Ci sono delle sanzioni che non sono da poco perché si parte da 150-160 euro a 1.000 euro. Quindi se qualcuno non lo fa incorre a questa sanzione. Ma quello che è più grave è che si può andare in penale perché non comunicare alla questura. E domani possono succedere dei incidenti o delle persone che hanno dei precedenti con la giustizia. Questi i proprietari diventano complici o diventano parti in causa nel processo o nell'atto. Quindi è importante ricordatevi tassativamente. Se avete problemi nel sito dell'acquistura è scritto chiaramente. C'è il modello con cui fare la domanda e se telefonate nell'orario d'ufficio dalle 9 alle 12 un funzionario vi dà tutte le spiegazioni. Quindi non esitate. Se avete dubbi informatevi. Credo che anche gli uffici dei comuni siano informati di questo. E quindi se avete dubbi, se non potete recarvi in questura, sentite l'ufficio del comune o i vigili della zona di cui fate parte. Perché questa è la discriminante fondamentale. Quindi cittadini europei parificati da questo punto di vista non bisogna dichiararli. No, perché registrando il contratto l'ufficio dell'interno ottiene lo stesso, i risultati e tutti i dati che in precedenza venivano comunicati. Quindi non chiedono nessuna altra comunicazione. Perché quando noi registriamo un contratto dobbiamo predisporre il modello 69 e tante altre documentazioni. Quindi hanno già tutta la documentazione predisposta. Mentre invece nel caso di extracomunitari, che vale la pena di ricordarlo, vuol dire un etiope come un tauanese come un americano, credo. Quindi tutti coloro che non fanno parte della comunità europea vanno dichiarati secondo modalità. Che insomma abbiamo sentito. Nel termine di 48 ore. Nel termine di 48 ore, attenzione da quando si mette in possesso dell'immobile. Inizia questo rapporto. Esatto. Detto questo c'è un argomento, mi dispiace ma è proprio un argomento ad personam, glielo chiedo per interesse mio personale, è quello del riscaldamento. Perché purtroppo le liti in famiglia possono nascere per qualsiasi futile motivo. Ma credo che l'accensione, così come lo spegnimento del riscaldamento, siano una di quelle baruffe di tipo goldeniano fra coniugi più frequenti. Ho freddo? No aspetti. Insomma, cosa ci dice la legge a questo riguardo, Gambato? La legge è una vecchia legge del 93, il DPR 412, che ci ricorda che l'impianto di riscaldamento nella zona B, che è la zona della città di Padova, ci sono cinque zone, noi facciamo parte di questa zona, l'impianto di riscaldamento si possono accendere dal 15 di ottobre al 14 di aprile. Gli impianti di riscaldamento possono anche essere accesi prima o dopo, purché il sindaco abbia dato delle deroghe. Io dico sempre come esempio, possiamo tenere acceso il riscaldamento anche il 15 di agosto, purché l'impianto di riscaldamento sia conforme alle disposizioni di questa legge, che prevede che abbia la valvola miscelatrice e le sonde esterne. Perché? Perché se io esternamente ho una temperatura di 30 gradi, voi capite che la valvola chiude l'erogazione dell'acqua calda nei radiatori e quindi di conseguenza non funziona. È assurdo, però la legge dice che nell'altro periodo, che sarebbe dal 15 di aprile al 14 di ottobre, può funzionare 7 ore. Quindi oggi si potrebbe far funzionare il riscaldamento per 7 ore se c'è questa predisposizione della valvola termostatica. Anche se c'è la predisposizione a spendere somme allucinanti per il riscaldamento. Dobbiamente adesso, nello spirito del risparmio, noi siamo chiamati ad avere un po' di parcimonio. Ci sono anche delle norme che prevedono che chi ha un impianto funzionante a gas metano può tenere la temperatura più o meno 2 gradi dei 20. Chi invece ha il riscaldamento funzionante a gas olio deve avere una temperatura media di 19 gradi più o meno di 2. Qui adesso dobbiamo anche tenere presente che ci sono tanti accorgimenti, soprattutto sui fabbricati nuovi. Ci sono la legge 10, il DPR 59 che ha dato delle direttive, poi anche nelle costruzioni, oggi come oggi c'è il desiderio, ma anche la volontà e anche la moda di avere dei risparmi, di isolare i muri, le finestre, tante altre cose. Però noi ci troviamo spesso con le città come Padova che hanno le costruzioni di 50-60 anni. Qui sempre il DPR 412 ci suggerisce e ci impone entro il 2014-2015, adesso non si sa esattamente il termine di scadenza, che tutti gli appartamenti abbiano le valvole termostatiche. Cosa sono le valvole termostatiche? Sono quelle valvole che regolano l'afflusso dell'acqua ad ogni elemento scaldante e quindi in ogni stanza possiamo avere la temperatura più desiderata. Cioè in una stanza dove lavoriamo, eccetera, o viviamo... Magari stiamo molte ore fermi, quindi si sente di più freddo. 20-21 gradi va bene, però ci sono tante persone che desiderano dormire a 15-16-17 gradi. Quindi con questa valvola si riesce a trovare questo bilanciamento. Non solo, si riesce anche a non avere sprechi, perché se ho troppo caldo si chiude il radiatore, si spegne il radiatore e di conseguenza l'acqua calda va verso quel radiatore o quell'appartamento che ha più freddo. Dove invece c'è bisogno. Poi è molto importante riuscire, se abbiamo impianti o fabbricati che non hanno un giusto isolamento, trovare quelli piccoli accorgimenti che sono onerosi, però alla fin fine ripagano e ci portano a avere dei risparmi non da poco. Ricordiamo che il gas l'anno scorso ha aumentato di più del 20%, così l'energia. Quindi tutte queste problematiche che ci portano a avere dei sborsi. Io ho dei fabbricati dove l'anno scorso abbiamo anche risparmiato, è stata una stagione un po' più fredda, però siamo riusciti a risparmiare su una spesa di 20-25 mila euro, anche 4-5 mila euro. Abbiamo speso di più dell'anno precedente come costo del metano, perché era notevolmente aumentato. Quindi se riusciamo ad avere delle giuste proporzioni e trovare degli accorgimenti tali, ci sono poi, però sono interventi un po' più importanti che la legge 55 ci dà la possibilità di mettere queste caldaie a condensazione e anche queste riducono del 10-15, poi bisogna vedere impianto per impianto, ognuno ha il suo vestito giusto, e portiamo a ridurre anche questi, cioè le value termostatiche un 5-10%, la caldaia a condensazione altrettanti, l'isolamento e altro, si riesce a portare che la spesa di riscaldamento sia inferiore. Non solo, dobbiamo anche tenere presente che bruciando, creando il CO2, inquiniamo, quindi risparmiamo con la tasca economicamente, ma anche inquiniamo meno, e anche riusciamo ad ottenere dei risultati di comfort. Cioè su un fabbricato che ha 50-60 anni, con le valvole termostatiche, io riesco ad avere, non dico la temperatura perfetta, ma avere quel clima, quel comfort che mi dà la serenità di poter vivere. Vado via una settimana, lo metto in una temperatura di 15-16 gradi, e quindi quando ritorno lo porto su in qualche ora, conforme la temperatura esterna, ho un risparmio, sia quando sono via, ma anche nello stesso tempo di ridurre questi costi. Quindi adesso ci sono tante possibilità, indubbiamente la situazione economica è quella che è, però se lentamente, goccia dopo goccia, facciamo questi interventi, tutti ci troviamo bene e abbiamo anche salvaguardato il nostro ambiente. È un amministratore dei sogni. Cioè, alla fine della riunione condominiale le fanno la ola quando parla così, perché è troppo chiaro e insomma preciso, bravissimo. È veramente molto importante, tra l'altro, avere i consigli dell'esperto, in questo caso più che mai, perché io lo dicevo un po' scherzando, ma effettivamente queste voci sono arrivate ad avere un peso enorme nelle tasche di tutti quanti gli italiani, quindi insomma di tutti noi cittadini che abitiamo nella nostra casa. Su tutti i bilanci che noi abbiamo, normalmente la spesa del riscaldamento è il 60 se non 70% della spesa di un anno di un condominio. Se poi abbiamo anche l'acqua calda, che anche qui ha dei costi non da poco, l'impegno è abbastanza importante. Vi dico anche di più, a parità di condizioni non pensiate che un impianto autonomo... Glielo stavo per chiedere, glielo stavo per chiedere, infatti. Nell'impianto autonomo possa dare dei risultati migliori. Se noi abbiamo una buona caldaia, quindi non abbiamo il pensiero di dover fare le manutenzioni, di intervenire, eccetera, e abbiamo una giusta distribuzione con queste valvole o con altri sistemi che oggi ci sono, addirittura possiamo arrivare a avere il consumo per ogni unità immobiliare, che anche questa è una bellissima cosa, sta ottenendo dei risultati eccezionali e allora qui anche riusciamo, anche solo una cosa psicologica, io dico pago quello che consumo, quindi non aprono più le finestre come prima, avevano troppo caldo e aprono le finestre. È una cosa da persone non coscienti. Adesso, invece adesso chiudono il radiatore, trovano le soluzioni, addirittura si isolano l'appartamento, mettono in doppi vetri, che è una cosa privata, cioè la finestra è mia, non è del condominio. La posso cambiare senza problemi. Quindi tutti riusciamo con piccoli accorgimenti, dice ho speso di qua, però io vi dico sinceramente il comfort e il benessere che abbiamo con questi piccoli interventi ti danno delle soluzioni che sono veramente valide. Certo, infatti, sicuramente. E questo era solo per parlare del riscaldamento con questa scadenza che è ormai imminente del 15 ottobre, in cui si può, diciamo così genericamente, partire. Speriamo che il tempo ci aiuti, invece il clima ci aiuti quest'anno, che non sia un inverno così freddo come è stato l'anno scorso, perché appunto così si riesce a risparmiare anche un po' grazie a questo. Adesso noi ci fermiamo per la prima parte di SOS Casa di quest'oggi con Alfredo Gambato e con lui ci ritroviamo tra pochissimo, quindi vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme, anche quest'oggi SOS Casa a vostra disposizione, il nostro sportello condominiale, praticamente oggi è con noi Alfredo Gambato, che è il vicepresidente di Anaci Padova. Se volete ci potete telefonare allo 049 635 964, se no potete iscriverci sempre a SOS Casa che ho cela da channel.it, telefonare è l'opzione che ha scelto questo nostro telespettatore. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Stefania, chiamo da Abano Terne. Salve Stefania, benvenuta. Volevo fare una domanda di questo genere. Io possiedo un negozio che ho affittato concordando un canone con l'inquilino. Purtroppo, ultimamente, con i problemi economici che ci sono, l'inquilino fa insistenza perché gli abbassi il canone di locazione. volevo sapere se era una cosa legittima, se lo posso fare e come devo comportarmi. Resti con noi allora, che sentiamo Gambato cosa ci consiglia. Grazie. Allora, la situazione economica oggi è una cosa che veramente non abbiamo più parole, né più idee o altro, cioè si sperava, speriamo che qualche anno ancora. Tutte, gran parte, ma quasi tutte le attività commerciali hanno difficoltà perché sono ridotti gli introiti, eccetera. C'è la possibilità che il proprietario, come lo stanno facendo diversi, ne facciamo tante, trovare una convenzione, un accordo di riduzione del canone d'affitto. Laddove abbiamo un'attività commerciale, quindi un'attività che poi ha dei registri IVA e altro, il proprietario, assieme all'inquilino, trova un accordo, fa una convenzione, la registra, la registra con la tassa fissa e viene ridotto il canone in base a questi accordi, rimanendo invariato poi alla scadenza, sia il rapporto di locazione, perché il contratto che è ad uso diverso ha durata di 6 più 6, quindi rimarrà sempre con la scadenza dei 6 anni più i 6 anni, però si riesce ad avere queste agevolazioni. Alla scadenza dell'accordo, che può essere di un anno, di due anni o altro, insomma quello che trovano la soluzione, riprende il vecchio canone con tutti gli altri articoli, compreso l'Istat o quelle altre convenzioni che si erano fatte. Quindi non c'è nessun problema, è solo una volontà, è un rapporto contrattuale, quindi le persone devono convenire insieme di trovare l'accordo. Nei rapporti invece con le abitazioni succede anche questo, si deve fare lo stesso, ah dimenticavo, è consigliato registrarlo nei rapporti d'uso diverso di abitazione. Nei rapporti per le abitazioni si fa l'accordo, si tiene nel cassetto, perché è un rapporto che non ha bisogno di registrazioni particolari. Se uno vuole essere sicuro che poi non ci siano inconvenienti o altro, lo registra anche questo a tassa fissa. Sono tutti quei rapporti tra due persone che quando fanno un contratto e quindi automaticamente si possono trovare. Potrebbe essere? Cosa dice? Posso chiedere un'altra cosa? Poi a livello di dichiarazione dei redditi io potrò dichiarare quello che effettivamente ho raccolto dall'inquilino o dovrò comunque denunciare il canone intero? Se lei ha registrato il contratto tranquillamente può dichiarare l'affitto per il negozio che ha ridotto. Se il suo commercialista, e quindi conviene sempre che il proprietario sente il suo commercialista, anche se non l'ha registrato, l'agenzia delle entrate, riconoscendo il rapporto che c'è stato e almeno apponnendo una marca con la data certa sopra, non dovrebbero esserci nessun problema per la riduzione. Bene, è soddisfatta? Grazie. Grazie a lei. Buona giornata. Sono problemi che bisogna risolvere, anche sono delicati perché stiamo sempre parlando di carte ufficiali quindi giustamente la signora chiede lumi su questo. Bene, da parola di Gattofile, le devo fare una domanda perché io ho letto una notizia qualche settimana fa perché si tratta, se non sbaglio, proprio di una novità abbastanza recente io dicevo prima, un po' scherzando un po' no, che si litiga per il riscaldamento si litiga spesso anche per gli animali domestici che vengono tenuti in casa e tante volte si doveva andare a guardare il regolamento di condominio, cosa c'era stato scritto bisognava chiedere i permessi per tenere un cane piuttosto che un gatto, è vero che questo incubo è finito? Allora è da diverso tempo che se anche c'era un regolamento contrattuale ed era vietato tenere animali lei nella sua proprietà poteva disporre come meglio credeva degli animali indubbiamente quando lei esce e va nelle parti comuni che possono essere le scale, l'entrata, qualsiasi parte comuni, il giardino e altro e questo animale la legge prevede, la legge Sirchia, che prevede che deve avere determinate accorgimenti per quanto riguarda i cani, devono essere al guinzaglio e anche alcuni cani, alcune razze di questi cani devono essere con la mugioruola per i gatti è importante che questi rimangano nella sua proprietà perché spesso non è che si lamentano i gatti, non disturbano più di tanto tranne che non vengono lasciati lì come è già successo a persone senza cognizione che li lasciavano lì tre o quattro giorni a casa da soli senza mangiare questi si mettevano a miagolare, disturbavano però i gatti La bestia è il padrone come diciamo sempre Esatto, bravissima quindi automaticamente non devono uscire dai poggioli, andare nelle case e poi creare dei problemi ci troviamo poi che questo amore per gli animali qualche volta è trallascurato io ho un fabbricato proprio in centro storico di Padova dove un gatto, due gatti, tre gatti siamo arrivati a 18 gatti voi capite che 18 gatti creano qualche problema anche se noi li amiamo eccetera quindi io non posso lasciare la macchina aperta durante agosto perché mi saltano dentro si infilano dentro siccome i miei sarebbero, tenderebbero al viaggio nessuno li fa sterilizzare queste femmine e automaticamente noi abbiamo noi stiamo parlando di padroni responsabili quindi se c'è l'educazione tutto si può fare e tutto si può ottenere ma indubbiamente poi si creano certe situazioni che sono insostenibili quindi la giusta misura c'è in tutte le cose bene, andiamo a sentire se ha bisogno di giusta misura anche questo nostro telespettatore o telespettatrice, pronto? sì, buongiorno buongiorno a lei, con chi parliamo? sono Marco e chiamo dall'Arcella salve Marco, prego buongiorno innanzitutto volevo complimentarmi con il ragionier gambato per le risposte che non è facile trovare delle risposte così esaustive in più mi interessava capire un attimo il nostro amministratore ci ha proposto nell'ultima assemblea di condominio l'installazione di valvole termostatiche e ripartitori di consumo per l'impianto di riscaldamento sì volevo capire un attimo se è possibile avere delle spiegazioni sul funzionamento e capire un attimo se è una cosa valida e in più anche le eventuali agevolazioni che potrebbero esserci collegate a questi lavori sì, quindi un approfondimento rispetto a quanto avevamo detto poco fa nella prima parte della trasmissione voleva capire meglio come funzionano Marco esatto, esatto e se il condominio alla fine ne ha dei benefici certo oltre alle detrazioni fiscali se sono previste sentiamo cosa ci dice grazie Marco intanto per averci chiamato grazie a lei continui a seguire dallo schermo le valvole termostatiche sono un beneficio che indubbiamente danno dei risultati come avevamo detto prima di comfort e anche di benessere di riduzione dei costi e anche di mancato inquinamento c'è anche la possibilità che se noi cambiamo la caldaia a condensazione mettiamo queste valvole termostatiche abbiamo anche una riduzione del 55% di quello che paghiamo quindi abbiamo in 10 anni da quest'anno fino al 30 giugno del 2013 questo risparmio se noi mettiamo solo le valvole termostatiche dal vecchio 36% abbiamo un risparmio del 50% le valvole termostatiche io le propongo in tutti i fabbricati perché danno degli risultati che io chiamo comfort cioè ognuno può disporre del riscaldamento della temperatura che crede in tutte le stanze ad esempio una persona anziana che è rimasta con 5 o 6 stanze e ne gode un paio può tenere in riduzione le stanze chiuse quindi risparmiare nel consumo e nello stesso tempo nelle altre ambienti avere il confort che le serve la devo fermare perché sta scadendo il nostro tempo detrazioni fiscali chiedeva Marco sì, il 55% se cambiamo la caldaia e il 50% se cambiamo solo le valvole lei sta parlando di questa percentuale applicata ad ogni proprietario? la spesa, io spendo 100% io devo guardare la singola persona che spende 100% si può togliere 50% in 10 anni quindi risparmi al 50% nel corso di 10 anni va bene, io sento che le questioni tutte legate al risparmio energetico alla fine tornano in ognuno dei nostri appuntamenti quindi sono molto di attualità ne riparleremo anche con lei grazie intanto ad Alfredo Gambato per essere stato con noi quest'oggi grazie a voi che ci avete seguito l'appuntamento in diretta martedì prossimo alle 13.30 ovviamente ci potete seguire però anche negli altri nostri appuntamenti nel palinsesso di Ada Channel grazie Gambato e grazie a voi, arrivederci grazie a voi